Il 29 giugno 1986, allo stadio azteca di Città del Messico, si gioca la finale dei campionati del mondo di calcio che consentiranno all'Argentina di conquistare il suo secondo titolo. L'Argentina che partecipava a quel campionato del mondo non era una squadra formidabile, ma aveva due assi nella manica. Un allenatore abile e furbo, Carlos Bigliardo, e soprattutto un fuoriclasse come Diego Armando Maradona. Maradona non segnò nella finale, ma con un geniale assist consentì al compagno di squadra Borrucciaga di segnare il gol del 3-2 che avrebbe consegnato all'Argentina il campionato del mondo e la finale. In verità quella non fu probabilmente la partita più celebre di quel campionato del mondo. La partita più celebre si giocò qualche giorno prima e vide di fronte all'Argentina di Maradona e l'Inghilterra. Maradona segnò due dei suoi gol più celebri, passati alla storia come la mano de Dios e il gol più bello del secolo.